residenti e membri del comitato di via ottava strada non hanno dubbi è stato il grosso rullo compressore che da giorni sta lavorando alla realizzazione della nuova strada per conto della profiglas e col suo pesante e vibrante va e vieni ha causato l'allargamento di alcune crepe in una casa adiacente decretandone così l'inagibilità. La famiglia è stata costretta ad abbandonare l'immobile siamo preoccupati soprattutto anche per le altre case non solamente per questa siamo preoccupati anche come abbiamo sempre detto purtroppo disagio che inascoltato fino a questo momento e abbiamo sempre cercato un confronto con l'amministrazione locale abbiamo sempre cercato insomma di trovare un modo per risolvere le cose per cercare di capire soprattutto anche i nostri diritti e dire se erano rispettati. La nuova strada che l'azienda sta realizzando è un onere urbanistico a suo carico dopo l'avvenuta approvazione in consiglio comunale di una variante urbanistica che consentirebbe alla profiglas di ampliare il capannone inglobando la vecchia strada cieca usata fino adesso come servitù per questo la profiglas sta anche realizzando un nuovo tracciato del fosso che scorre a di acente e che è già straripato diverse volte in passato minacciando la stessa abitazione che ora è resa momentaneamente inagibile. Il problema è annoso quello dei residenti di via ottava strada che prima erano in piena periferia ma che ora si ritrovano circondati da capannoni e insediamenti industriali e che lottano da sempre per voler conoscere i dati relativi alla salubrità dell'aria nella zona. Vorremmo sapere anche dell'uscitazione soprattutto anche sulla qualità dell'aria visto che la centralina in questo momento è spenta che i soldi non ci sono per quanto noi abbiamo sempre detto che la centralina non serve a nulla perché non rileva diciamo gli inquinanti quelli più pericolosi che sarebbero gli ossini furani eccetera. Questo disagio insomma noi lo manifestiamo da anni e siamo stati costretti a creare il comitato per cercare di far sentire la nostra voce. Sono stati gli stessi abitanti della casa che venerdì hanno chiamato i vigili del fuoco per sincerarsi dei danni procurati alla loro abitazione. Ucciti di casa assieme agli altri 30 residenti della strada per protestare a causa dei notevoli disagi dovuti ai lavori. Poi la doccia fredda di dover abbandonare l'abitazione per sicurezza in attesa delle dovute verifiche tecniche sulla stabilità e l'agibilità della loro abitazione.